Rombiolo, agricoltore muore schiacciato dal suo trattore. Mattinata drammatica nelle campagne di Rombiolo, dove si è registrato l'ennesimo incidente sul lavoro, costato purtroppo la vita ad un agricoltore 51enne del luogo. L'uomo RP era intento ad arare con il proprio trattore un terreno di sua proprietà, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato sbalzato dal mezzo finendo tra le ruote dello stesso, riportando un trauma da schiacciamento che si è rivelato fatale. Vani i tentativi di soccorrerlo da parte del personale sanitario giunto sul posto nell'immediatezza dei fatti, l'uomo è praticamente morto sul colpo. Cavalli di ritorno tra Calabria e Sicilia, 13 misure cautelari. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza puntano a disarticolare un gruppo criminale attivo nel cosiddetto villaggio degli Zingari di Cosenza, specializzato in estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Oltre 120 carabinieri stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di 13 indagati a vario titolo per i reati in concorso di ricettazione, furto e estorsione. È un'operazione che si concentra soprattutto nel villaggio degli Zingari a Cosenza e che ha disarticolato un gruppo specializzato nel cosiddetto cavallo di ritorno e gli indagati, dopo aver rubato i veicoli, si facevano pagare da 850 a 2000 euro per la loro restituzione, secondo il valore del mezzo. Lo dice il capitano Giuseppe Mero, la comandante della compagnia dei carabinieri di Cosenza, che ha guidato l'operazione Gipsy Village, eseguita stamattina con l'ausilio di 120 militari. Il nostro consiglio è quello di denunciare sempre, ha detto ancora il capitano, e ringrazio chi lo ha fatto, descrivendo tutte le modalità con le quali sono state perpetrate queste vere e proprie estorsioni. Dei 13 indagati, due sono stati condotti in carcere, nove agli arresti domiciliari, uno sottoposto all'obbligo di dimora e un altro all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ricostruiti i 12 episodi tra furti e ricettazione di mezzi, di cui tre forgoni e nove autovetture, nove estorsioni consumate per la restituzione dei veicoli e due tentativi di estorsione fatti perpetrati da gennaio 2019 a gennaio del corrente anno. L'operazione rappresenta un seguito di quelle denominate scacco al cavallo e scacco al cavallo 2, eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza il 16 novembre 2018 al 4 luglio 2019, nell'ambito delle quali erano già stati arrestati alcuni degli indagati di oggi. Il gruppo criminale, composto in gran parte da Rom, riusciva a contattare i proprietari delle autovetture trafugate, costringendoli alla consegna di somme di denaro per la restituzione del mezzo. Gli indagati, una volta individuato il proprietario del veicolo rubato, stabilivano il primo contatto nel quale invitavano la vittima a recarsi in Via degli Stadi, all'interno del cosiddetto villaggio degli Zingari, sede del quartiere degli stessi, completamente controllato. Ed è infatti il villaggio Rom di Via degli Stadi la base logistica per lo svolgimento della predetta attività, all'interno del quale i vari indagati operano con ruoli interscambiabili, essendo indispensabile la cooperazione dei più persone per la commissione dei furti, la custodia dei mezzi trafugati, la gestione dei rapporti con le persone offese, fasi che potevano essere condotte nell'assoluta sicurezza della copertura, data dalla complicità dei residenti. Le vittime venivano agganciate sul luogo del furto o attraverso telefonate effettuate da cabine telefoniche pubbliche, con l'indicazione della modalità per la restituzione dell'auto. Tra i tanti episodi documentati, vi erano anche casi in cui le stesse parti offese hanno deciso di chiedere a referenti individuati di poter recuperare il mezzo, sapendo di dover corrispondere una somma di denaro. Il passaggio successivo consisteva nello svolgimento della trattativa per stabilire l'entità del prezzo da pagare per la restituzione, che il più delle volte variava da 850 a 2000 euro. All'atto della riscossione veniva indicato il luogo dove si trovava il mezzo. Solo illimitati casi è riscontrato, in assenza di una intesa sulla somma, il ricorso a minacce, compresa quella della distruzione della vettura. I carabinieri hanno recuperato 36 mezzi rubati, sentendo a sommarie informazioni 52 vittime. Di questo, 4 sono state denunciate per favoreggiamento personale, in quanto hanno negato tutto, non fornendo alcuna collaborazione. Daniela Maiolo per Teleionio Drangheta, Maxi Frode e a Milano puntavano a fondi Covid per imprese. Puntavano ad accedere ai fondi per le imprese messi a punto dal governo per sostenere il sistema imprenditoriale durante l'emergenza Covid. C'era anche il contributo a fondo perduto, previsto nel decreto dell'8 aprile, tra gli obiettivi della Maxi Frode Fiscale, sgominata dal nucleo di polizia economico-finanziaria della GDF di Milano, su disposizione della DDA milanese. Le società inserite nello schema di Frode avevano attestato un volume d'affari non veritiero e fondato sulle false fatture dell'anno precedente, anche per intascare quel denaro. In tutto sono 8 le persone sottoposte a misura cautelare, di cui 4 in carcere e 4 ai domiciliari e 7,5 milioni i beni sequestrati nell'operazione. Fra i reati contestati, associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla Frode, autoriciclaggio, intestazione fitta di beni e bancorotto fraudolenta, l'organizzazione aveva anche disponibilità di armi. Secondo le indagini coordinate dai magistrati antimafia, gli arrestati erano contigui al clan greco di San Mauro Marchesato, che è considerato un'emanazione dell'Andrina di Crotone, operante anche sul territorio lombardo. Giovane brasiliano a terra alla Mezzia, respinto alla frontiera per norme Covid. Tra i passeggeri provenienti da Steinsted, Londra, atterrati alla Mezzia Terme, la mattina dell'11 luglio scorso c'era anche DSO W, un cittadino brasiliano di 24 anni. Il giovane passeggero, sebbene provvisto di regole e valido passaporto, non aveva fatto i conti con le recenti misure anti-Covid-19, disposte dall'ordinanza del Ministero della Salute, del 9 luglio che vietano l'ingresso nel territorio italiano ai cittadini appartenenti a quegli stati, dove l'epidemia sta ancora dilagando. Nell'elenco di tali stati rientra anche il Brasile, ed è questo il motivo che ha spinto gli agenti della squadra di frontiera area di La Mezzia ad approfondire le ricerche sul giovane brasiliano. Il giovane non è stato in grado di dimostrare di non essere stato in Brasile nei precedenti 14 giorni, circostanza questa che non ha lasciato ai poliziotti altra scelta che quella di inibire allo stesso l'ingresso nel territorio nazionale e la conseguente emanazione di un provvedimento di rispingimento alla frontiera. Dopo le formalità di rito nel pomeriggio della stessa giornata, il giovane brasiliano è stato imbarcato su un volo di linea diretto a Pisa, per il successivo imbarco su un altro volo diretto a Stansted, Londra. Quest'ultima attività, che dopo l'emanazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio, rappresenta il primo caso di rispingimento alla frontiera eseguito in Calabria, si aggiunge alle tante altre che gli operatori della Polizia di frontiera area di La Mezzia Terme hanno costantemente svolto durante il lungo periodo di look down dei mesi scorsi e rientra nel piano straordinario di controlli anti-covid predisposti dal Ministero dell'Interno per gli ingressi e i transiti in Italia. Chiefalo, la politica migratoria rompe e i paradossi dei sensi inversi. La distruttiva politica migratoria dei nostri governanti sta spiegando effetti anche a queste latitudini. E quanto si legge in una nota di Antonio Chiefalo, lega Salvini Calabria, se grazie al buon Dio, al nostro Dio, la Calabria è stata sostanzialmente risparmiata dalle catombe della scorsa primavera, allora quando Covid-19 ha portato tanta morte in diverse regioni del paese, ora ci pensa la politica dissennata del governo centrale a rompere le uova nel paniere. Per settimane, prosegue Chiefalo, è stato generato panico e paralizzato ogni cosa, poiché occorreva limitare il rischio di contagi. E ora che siamo miracolosamente riusciti a superare la curva senza cappottare, fatalmente il rischio viene creato dalle istituzioni che favoriscono sbarchi e impongono ospitalità. Il paradosso dei sensi inversi che comporta l'azzeramento della prima risorsa economica della nostra regione, l'industria turistica, suggestionando peraltro con la necessità di protrarre lo stato di emergenza sino al prossimo 31 dicembre e contestualmente impone un concreto rischio di escalation dei contagi e solo per citare la criticità delle ultime ore, un'elevatissima probabilità di attivazione di focolai ad Amantè e Rocella Ionica. La domanda è d'obbligo, ma ci hanno preso per deficienti? O credono che in nome dell'accoglienza sempre e comunque si debba e si possa silenziare un'importante parte dell'opinione pubblica locale assolutamente contrariata a questo assurdo modo di gestire le cose? Daniela Maiolo, per Tele Ionio. Migranti, FSP, polizia esposta a contagi, bloccare gli sbarchi. La gestione degli sbarchi di migranti in Calabria è diventata insostenibile anche per le forze di polizia. Dopo lo sbarco di Rocella Ionica sono 25 colleghi del commissariato di Siderno e della questura di Reggio Calabria in quarantena e a loro si aggiungono altri esponenti delle forze dell'ordine. Non possiamo essere noi a pagare un prezzo così alto, lo afferma il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano, che ha espresso anche sostegno alle iniziative di protesta avviate dalla Presidente della Regione, Iole Santelli, e comprensione nei confronti di quei cittadini che hanno dovuto fare i conti con l'arrivo dei migranti positivi nel pieno della stagione estiva. Abbiamo l'impressione che il Governo nazionale, ha aggiunto Brugnano, non abbia piena consapevolezza dell'eccessiva esposizione a cui sono costretti i componenti delle forze di polizia. Dopo la quarantena per i colleghi di Siderno e della questura, infatti, alcuni uffici sono praticamente paralizzati a causa delle numerose assenze, mentre i colleghi del commissariato di Condofuri sono impegnati nella sorveglianza dei migranti positivi ospitati a Bova Marina. Una realtà che pone in maniera drammatica il tema della tutela per gli operatori di sicurezza. Secondo la FSP, queste sono tutte condizioni che ci spingono a sostenere la necessità evidenziata dal Presidente Santelli di difendere i confini meridionali dell'Europa, bloccando gli sbarchi fino alla fine dell'emergenza pandemica. Il rischio, ha concluso Brugnano, è una sovraesposizione degli operatori di polizia con gravi ripercussioni per l'apparato sicurezza, considerato anche l'impegno quotidiano che dedichiamo nella lotta all'andrangheta. Drangheta stragista, procuratore Reggio Bombardieri, chiede ergastolo per Graviano e Filippone. Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha chiesto la condanna all'ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco San Filippone, considerato dalla DDA un esponente della cosca Piromalli di Gioia Tauro, imputati nel processo andrangheta stragista. Graviano e Filippone sono accusati di essere stati i mandanti dell'omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio del 1994 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e detentati omicidi ai danni di altre due pattuglie dell'arma tra il 1993 e il 1994. Dopo tre anni di processo e dopo aver sentito centinaia di testimoni, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha concluso la sua requisitoria, durata cinque udienze. Oltre al procuratore Bombardieri per la conclusione della requisitoria, a Reggio Calabria è arrivato anche il suo predecessore, Federico Caffiero Derao, attuale procuratore nazionale antimafia. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Violenza sessuale a scuola, ascoltate sei ex alunne di Belmonte. Si è aperto ieri mattina l'incidente probatorio nel processo che si celebra dinanzi alla sezione penale presidente Alfredo Cosenza e che vede un docente accusato di violenze sessuali sulle proprie alunne. All'epoca dei fatti contestati dalla procura di Paola, l'insegnante era in servizio presso la scuola media di Belmonte Calabro. Sei ex alunne dell'istituto scolastico, all'epoca tutte minorenni, sono state sentite dal giudice e dal perito Lopez e dai consulenti di parte, Spizzichino per la difesa e Ferraro per le parti civili. Secondo l'accusa, il sestantenne difeso dagli avvocati Simona Socevole e Vincenzo Genovese avrebbe compiuto dei palpeggiamenti in classe fino ad approcci più spinti. La procura rappresentata dal PM Rosanna Esposito contesta il reato di violenza sessuale con l'aggravante di aver agito approfittando della posizione di insegnante. Legalità, gratteri, togliere i giovani dalle strade. Se sono qui all'Ocri è perché sono fortemente convinto dell'utilità e dell'importanza di questo progetto. Quanto fatto dalle Coop, Goel è eccezionale e superlativo. La cooperativa a cui voglio davvero bene e con cui spesso mi sono confrontato, ricevendo anche utili consigli e riflessioni, è riuscita a far rete in Calabria, a dare lavoro a decine di persone in modo onesto, regolare e quindi senza sfruttare nessuno. Mi auguro che il governo investa tanto sulla scuola, aumentando anche di pomeriggio tutte le attività curriculari ed extracurriculari, togliendo così i giovani dalle strade. E poi mi aspetto più progetti diretti all'insegnamento della lingua italiana, visto che tanti giovani, tantissimi, non sanno scrivere in italiano. A dirlo è stato il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenendo all'Ocri alla firma del protocollo d'intesa tra per campi estivi gratuiti per studenti in beni confiscati. Da decenni ha aggiunto il magistrato i giovani dell'Emilia-Romagna, del Trentino e di altre regioni del centro-nord, che vengono per studi e stage in Calabria e in altre regioni del sud, dove è alta la presenza mafiosa, tornano nelle proprie regioni arricchiti e soprattutto consapevoli di cosa significa e di come si combatte e si contrasta la criminalità organizzata. Quando infatti incontro a distanza di qualche anno questi giovani al nord nei miei viaggi, li vedo cambiati, più adulti e in grado soprattutto di impegnarsi contro la mafia sul proprio territorio. Qui in Calabria i giovani sono facilmente vulnerabili e manipolati da chi ha tutto l'interesse di sminuire e demolire la cultura, la scuola e le persone per bene e abbattere tutto quello che è da considerarsi buono e soprattutto legale. La scuola, se fatta per come deve essere fatta, può fare tanto per migliorare la situazione. Daniela Maiolo per Teleionio. All'Ocri è stato siglato il protocollo d'intesa legali tour dalla Ministra Lucia Azzolina e dal Presidente Commissione Antimafia Nicola Morra. All'Ocri è stato siglato il protocollo d'intesa legali tour da parte della Ministra Lucia Azzolina e del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra alla presenza del Procuratore Nicola Gratteri. Per il cerimoniale della firma organizzato dal Ministero dell'Istruzione e dalla Presidenza della Commissione Antimafia è stato invitato a portare i propri saluti Goel, gruppo cooperativo, nella persona di Stefano Caria in quanto l'ostello Locride, gestito dai viaggi del Goel, è una delle strutture coinvolte in questa prima sperimentazione. Il protocollo, infatti, ha l'obiettivo di realizzare percorsi di educazione per studenti e formazioni per i docenti sul tema della legalità e vede come prima tappa i campi estivi rivolte a mille tra studentesse e studenti. Il Presidente Nicola Morra ha affermato «la Calabria, terra di individualismo, riesce a vantare esperienze come Goel, nel quale far comunità è la stella cometa di tutti gli aderenti al gruppo». Il Procuratore Nicola Gratteri ha aggiunto «sono convinto dell'importanza e dell'utilità di questo progetto quando vado in giro a parlare nelle scuole al nord in Emilia Romagna, incontro i ragazzi che sono venuti qui nella Locride, anche ospitati da Goel, e li vedo trasformati, maturi, con una piena consapevolezza di cosa è la mafia, come riconoscerla e combatterla». Sono contento che abbiate scelto Goel come interlocutore per questa iniziativa, perché rappresenta un esempio di antimafia vera e concreta. La Ministra Azzolina ha infine concluso «la scuola serve anche a salvare gli studenti e le studentesse da certi meccanismi brutali che questo Paese ha avuto, perché quando c'è dispersione scolastica la criminalità attecchisce più facilmente». Assessore Catalfamo, su coinvolgimento in inchiesta DDA, ho sempre agito nella legalità. «Ho sempre agito in assoluta trasparenza», lo ha detto l'assessore regionale a lavori pubblici domenica a Catalfamo, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, commentando con i giornalisti la richiesta di dimissione avanzata di recente dal Movimento 5 Stelle per il suo coinvolgimento in un'inchiesta della DDA di Reggio Calabria per vicende legate alla sua precedente attività di dirigente della provincia regina. «Credo», ha detto Catalfamo, «che non sia esattamente questa l'occasione adatta per parlarne. Io rispondo con la mia attività, con il mio lavoro, con la mia serietà. Scusate se sono un po' presuntuosa, ma credo che una cosa di cui posso andare certa è la mia trasparenza, la mia correttezza ed aver operato sempre nell'ambito della legalità. Mi colpisce molto l'azione, specialmente ha sostenuto l'assessore regionale quando diventa un'azione individuale e forse non è corretto che si faccia, ma non devo essere io a dirlo. Da parte mia non c'è la serenità che purtroppo si fa presto a perdere, ma senz'altro ha rilevato l'assessore regionale ai lavori pubblici la tranquillità di avere sempre agito per vent'anni di gestione del settore lavori pubblici in assoluta trasparenza, come spero di potere al più presto dimostrare. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Rinascita Scott, la difesa di Pittelli ci riprova, presentato l'appello al Tribunale della Libertà. È l'ennesimo tentativo per farlo uscire dal carcere di Nuoro, questa volta per Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, la partita si gioca al Tribunale della Libertà attraverso l'appello cautelare è presentato dopo il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del giudice dell'indagine preliminare. I suoi legali, Guido Contestabile, Salvatore Stajano, Giovanni Arico, poggiano l'appello cautelare partendo dagli esiti favorevoli del provvedimento della Corte di Cassazione, annullamento senza rinvio dei reati, abuso d'ufficio e rilevazione di segreto d'ufficio e riqualificazione da concorso esterno in associazione mafiosa aggravata a Semplice. Non più dunque per aver agevolato il boss Luigi Mancuso, ma per aver favorito l'organizzazione mafiosa. La misura cautelare però è rimasta la stessa, il carcere Episodi che lo scorso dicembre sono contestati a Pittelli l'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa. Qualificazione dettata a dicembre dal GIP Barbara Sacca, che ha aggravato la richiesta della Procura, la quale voleva l'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa. Su quest'ultima scia si è ritrovato il Tribunale della Libertà. Ad inizio gennaio ha riqualificato l'accusa riportandola a concorso esterno. Lette le motivazioni, i legali hanno presentato il ricorso in Cassazione, che ha riqualificato e annullato i reati, fine, ma decidendo di far restare in carcere i Pittelli. La settimana scorsa l'istanza al GIP, che dice ancora no, e ora non rimane che questo rimedio, il ricorso al Tribunale della Libertà, che dovrà valutare le novità processuali e le circostanze, questa volta indicate dalla Cassazione. Daniela Maiolo per Teleionio. Diede fuoco all'ex moglie a Reggio, condannato a 18 anni Ciro Russo. 18 anni di reclusione per Ciro Russo, l'uomo che diede fuoco all'ex moglie. E questa la condanna inferta dal GUP Valerio Trovato a Russo, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie Maria Antonietta Rositani, dandole fuoco a Reggio Calabria nel marzo 2019. Il PM Paola D'Ambrosio aveva invocato 20 anni di reclusione per l'uomo, difeso dall'avvocato Antonino Catalano, nel processo celebrato col rito abbreviato. Il 12 marzo dello scorso anno Russo, che si trovava agli arresti domiciliari ad Ercolano, Napoli, raggiunse in auto Reggio Calabria. L'aggressione avvenne in via Frangipane, mentre la donna era da sola in automobile, quando l'uomo aprì lo sportello e verso liquido infiammabile all'interno dell'autovettura, appiccando il fuoco. Maria Antonietta Rositani ha subito gravissime ustioni ed è stata ricoverata per oltre dieci mesi nel centro, grandi ustionati del Policlinico di Bari. Ciro Russo fu catturato dalla squadra mobile fuori da una pizzeria, in città dopo due giorni di serrata caccia all'uomo. Quattro i capi d'accusa, tentato omicidio pluriaggravato, maltrattamento in famiglia, uccisione di animali. Il cagnolino della donna era nella macchina e morì. Evasione dai domiciliari. L'uomo, pur non negando quanto accaduto, ha sostenuto di non aver avuto intenzione di uccidere l'ex moglie. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Inchiesta piscina comunale, scambio di favori tra i tre indagati. Giunge al capolinea una delle inchieste sulle presunte irregolarità nella gestione della piscina comunale Vinicio Caliò, nel quartiere Ponte Piccolo. Il sostituto procuratore, Graziella Viscomi, ha chiuso le indagini nei confronti di Giampaolo Mungo, 54 anni, Antonino Lagonia, 52, e Salvatore Veraldi, 29 anni. Tutti e tre di Catanzaro, a carico dei quali si ipotizza il reato di traffico di influenze illecite. Secondo il magistrato, titolare del fascicolo, Mungo, all'epoca dei fatti, assessore comunale allo sport, avrebbe sfruttato e vantato relazioni con pubblici ufficiali o comunque incaricate di pubblico servizio operanti al comune di Catanzaro e nell'azienda municipalizzata della Catanzaro Servizi per farsi promettere ed effettivamente dare diverse utilità, con risposte tramite Salvatore Veraldi, all'epoca dei fatti fidanzato con la figlia di Mungo, da Antonio Lagonia, titolare dell'associazione sportiva dilettantistica Catanzaro Nuoto. La notizia sulle pagine del sito zoom24.it che scrive di un patto criminale consistito nel mettere a disposizione del gestore della piscina comunale di Catanzaro venendo incontro a qualsiasi esigenza correlata alla gestione degli spazi d'acqua avvalendosi delle sue conoscenze all'interno di Palazzo De Nobili dietro il pagamento di un prezzo o l'assunzione di una famiglia. Daniela Maiolo per Teleionio. La Mezzia, operazione Crisalide, ritorna in libertà Antonio Mazza. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, in accoglimento dell'appello cautelare avanzato dei suoi difensori, gli avvocati Gianluca Careri e Giuseppina Caliò, ha rimesso in libertà Antonio Mazza. L'uomo rimasto coinvolto nell'operazione Crisalide si trovava agli arresti domiciliari con sistemi di controllo elettronico dal mese di maggio 2017. Il Tribunale ha condiviso il ridimensionamento delle esigenze cautelari, prospettato dalla difesa di Mazza, anche in virtù delle assoluzioni per alcuni reati a lui contestati, in particolare per l'assoluzione del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, intervenute con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio. Fiumi di droga nel Soveratese, in Trenta, chiedono l'abbreviato. In Trenta hanno chiesto il rito abbreviato nel corso dell'udienza preliminare del procedimento Last Generation, istruito dalla DDA di Catanzaro contro i rampolli della cosca Gallace di Guardavalle, che stando all'accusa avrebbero gestito il traffico di stupefacenti nel Catanzarese. Fiumi di droga, cocaina, hashish e marijuana che avrebbero dovuto coprire in particolare le esigenze del mercato estivo del Soveratese, dall'inchiesta è emerso che il quantitativo di droga sul quale l'organizzazione poteva contare era talmente elevata da coprire non solo il territorio del Soveratese ma da permettere lo smercio degli stupefacenti anche in Lombardia, a Milano, nel Maceratese e anche all'estero. Secondo quanto emerse dalle indagini, il gruppo si avvaleva di Puscher minorenni che facevano comunque riferimento a Vincenzo Aloi, 25 anni, nipote di Vincenzo Gallace, capo dell'omonima cosca di Indrangheta, radicata a Guardavalle. Hanno chiesto il rito abbreviato Vincenzo Aloi, Raffaele Campagna, Marco Ciano, Agazio Geracitano, Ozan Canat, Micael Leoci, Mauro Masciari, Giuseppe Notaro, Antonio Francesco Pittelli, Pietro Procopio, Andrea Lucia Rizzo, Giulio Moreno Rizzo, Ettore Rositani, Davide Stumpo, Paola Vaccaro, Tecleaimonot Zegai, Marco Verdiglione, Angelo Gagliardi, Italo Sailines, Giuseppe Strati, Fabrizio Bensi, Antonio Bressi, Francesco Galati, Antonio Grande, Vincenzo Longo, Leoni d'Antonio Montagna, Romano Ponzo, Orlando Giacomo Screnci, Annalisa Tortorelli, Moreno Tortorelli. Non hanno chiesto riti alternativi, concetta battaglia, Matteo Maida, Gianluca Meliti, Adriani Larry Rizzo, Simone Rocco Russo Manno. Il pubblico ministero, Deborah Rizza, ha insistito sul rinvio a giudizio degli imputati. Il GUP ha rinviato l'udienza al prossimo 27 luglio per decidere sull'ammissione dei riti e sui rinvii a giudizio. Per Teregionio, Anna Maria Colabraro. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. La Calabria compie 50 anni, i santelli saranno realizzati eventi per raccontare la vita della regione. La Calabria oggi compie i suoi primi 50 anni. Il 13 luglio 1970, infatti, si riunì a Catanzaro il primo consiglio regionale per approdare poi in riva allo stretto a Reggio Calabria. Per celebrare l'avvio del regionalismo in conferenza Stato-Regioni, si è stabilito di realizzare degli eventi specifici rappresentativi di ogni territorio. Anche la Calabria, afferma Iole Santelli, presidente della regione Calabria, vedrà la realizzazione di incontri per contribuire a raccontare la vita della nostra regione. Una ricorrenza non solo per ricordare quando siamo partiti, ma utili a farci capire dove siamo arrivati oggi, nel processo di unitarietà di una regione che mostre il suo avvio in maniera tumultuosa con la frattura del moti di Reggio, scoppiati il 14 luglio all'indomani della Costituzione della regione. Comunali, Unire Sant'Andrea, pronta alla sfida. Prosegue il cammino del Movimento Civico, Unire Sant'Andrea, che dopo aver ufficializzato Brunil De Genco, quale propria candidata a sindaco, ed inaugurata la sede di Sant'Andrea Marina, vuole annunciare i membri della squadra che si appresta ad affrontare la tornata elettorale del prossimo settembre. I dieci candidati alla carica di consigliere sono Sergio Commodari, 56 anni, funzionario di Areti S.P.A., Emilio Dominigliani, 37 anni, consulente di marketing, Salvatore Gareri, 47 anni, imprenditore nel settore industria e arredi, Alessandra Gatta, 24 anni, perito turistico, Natalia Lioi, 27 anni, studentessa in giurisprudenza, e ancora Stefano Lioi, 33 anni, direttore di banca, Filippo Parisi, 26 anni, studente in ingegneria civile, Carmela Pisano, 50 anni, assistente sociale, specialista ed insegnante, Alfonso Samà, 34 anni, ingegnere delle telecomunicazioni, referente per la Calabria di Selnex S.P.A. Nicola Antonio Samà, 70 anni, medico internista in pensione. Il team è ampiamente rappresentativo dell'intero tessuto sociale andreolese e della sintesi di esperienze personali e professionali eterogenee che consentono di qualificare al meglio la lista, in quanto ciascun candidato, con il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, può essere un'importante risorsa nel rappresentare e servire la comunità. Il messaggio di unione lanciato dal Movimento Civico traspare ampiamente dal simbolo scelto, che rappresenta Sant'Andrea nelle sue componenti più significative. Il mare, le colline e il paese che si adagia su di esse, quasi a voler simboleggiare un abbraccio in cui si stringe l'intera cittadinanza. Attraverso il simbolo, dice la capolista, esplicativo del territorio andreolese tutto, si vuole inoltre evidenziare la bellezza e la ricchezza del patrimonio paesaggistico e di quello architettonico della nostra cittadina, che meritano di essere salvaguardati e valorizzati nella loro interezza. Daniela Maiolo, per Teleionio. Comunali, Progetto Civico per Satriano lancia la lista civica Il Ponte. Cari concittadini e cari concittadini, il Movimento Politico Progetto Civico per Satriano si propone di parlare a tutti voi e a tutte quelle forze interessate a costruire una nuova stagione per Satriano, al fine di superare un triennio caratterizzato da ben due gestioni commissariali e da un'esperienza di governo conclusa si anticipatamente, per garantire stabilità e governabilità nell'interesse esclusivo dei cittadini di Satriano. È un progetto ambizioso che si pone tra i tanti obiettivi anche quello di avviare un confronto con gli altri comuni del comprensorio per poter dare vita a intese intercomunali su quei problemi che oggi non possono essere affrontati se non discutendo insieme. È importante tutto questo per dare forza e significato a uno sviluppo che deve puntare su progetti di largo respiro che chiamano in causa capacità di rapportarsi con le istituzioni sovraccomunali, competenze specifiche e volontà di lavorare insieme alle altre amministrazioni comunali per compiere quelle scelte utili e necessarie per far avanzare non solo Satriano ma un intero territorio che deve e può in tale modo contare e pensare di più rispetto alle scelte strategiche che dovranno essere portate avanti nell'interesse di tutte le comunità. A tal fine il Movimento Politico Progetto Civico per Satriano sarà presente alle eminenti elezioni amministrative del 20 e 21 settembre per il rinnovo dell'amministrazione comunale con una propria lista civica denominata Il Ponte con candidato alla carica di sindaco l'avvocato Francesco Maida. Daniela Maiolo per Teleionio Comunale Girifalco ai blocchi di partenza anche il Movimento 5 Stelle Sarà presente anche una lista del Movimento 5 Stelle alle prossime comunali d'autunno a Girifalco La notizia della certificazione della lista con candidato a sindaco Luigi Antonio Stranieri è arrivata in mattinata ed è stata accolta con manifestazioni di giubilo ed entusiasmo da parte dei candidati consiglieri nonché dai componenti del locale Meetup Istmo a 5 Stelle. I Girifalcesi non hanno più alibi a settembre quando si voterà avranno finalmente la possibilità di tracciare un futuro diverso per la propria comunità di cambiarne in meglio le sorti e siamo fiduciosi, non ci deluderanno. E quanto affermato in una nota congiunta è il candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle Luigi Antonio Stranieri e il deputato della Repubblica nonché facilitatore delle relazioni interne per il Movimento Riccardo Tucci. La lista del Movimento 5 Stelle a Girifalco spiegano Stranieri e Tucci nasce sulla scorta dell'esperienza dei cittadini liberi e attivi che a Girifalco nella scorsa consigliatura ha espresso l'elezione dell'ingegnere Luigi Antonio Stranieri che ne è divenuto capogruppo. Si è trattato di un'esperienza difficile ma al contempo esaltante nella quale sono state messe in campo tutte le procedure a salvaguardia di ambiente e territorio e da tutela di ogni cittadino in linea con i principi del Movimento 5 Stelle a cui i cittadini liberi e attivi si sono sempre costantemente ispirati. Battaglie civiche che hanno ricevuto il plauso dei cittadini e hanno significato una netta inversione di tendenza con le deleterie politiche del passato. Sulla linea di continuità della scorsa consigliatura prosegue la nota il Movimento 5 Stelle si propone e propone dunque una valida alternativa ai soliti giochi di potere che si sono perpetrati per decenni in questo paese. Lo fa con umiltà e dedizione portando avanti una squadra di professionisti giovani e credibili che intendono poter realizzare l'idea d'avanguardia del Movimento 5 Stelle nell'ospicio di rappresentare un'autentica novità nel panorama politico di una comunità che desidera fortemente di riscattarsi dal degrado e dall'arretramento in cui si ritrova attualmente. La lista del Movimento 5 Stelle rappresenta concludono stranieri e tucci una valida alternativa all'insossistenza dei governanti che si sono susseguiti ininterrottamente nel corso degli anni sempre gli stessi e che oltretutto si sono incrociati spesso divenendone all'occorrenza alleati o avversari a seconda delle circostanze pur di poter andare al potere a prescindere dai programmi e dalle idee messe in campo. Daniele Maiolo per Tele Ionio L'amministrazione comunale di Santa Caterina guidata dal sindaco Francesco Severino presenta con questo video il bilancio di questi due anni di amministrazione. La storia siamo noi nessuno si senta offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo la storia siamo noi attenzione nessuno si senta escluso la storia siamo noi siamo noi queste onde nel mare questo rumore che rompe il silenzio questo silenzio così duro da masticare e poi ti dicono tutti sono uguali tutti rubano nella stessa maniera ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera però la storia non si ferma davvero davanti a un portone la storia entra dentro le stanze le brucia la storia dà torto e dà ragione la storia siamo noi siamo noi che scriviamo le lettere siamo noi che abbiamo tutto da vincere tutto da perdere e poi la gente perché la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare che la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare era per questo che la storia dà i brividi perché nessuno la può fermare la storia siamo noi siamo noi padri e figli siamo noi bella ciao e partiamo la storia non ha nascondigli la storia non passa la mano la storia siamo noi siamo noi questo piatto di grano di grano per la storia non ha nascondigli ma non ha nascondigli ma non ha nascondigli ma non ha nascondigli Una settimana dietro il nuovo parroco Don Roberto Corapi, presentandosi alla comunità, aveva auspicato la massima sinergia con l'amministrazione comunale, che per bocca del sindaco Luigi Ruggero lo aveva accolto garantendo totale disponibilità per comuni iniziative finalizzate alla crescita morale e civile del nostro territorio. Ieri il primo atto della nuova intesa di mutuo aiuto con Don Roberto in visita a Palazzo Canale. Nella storica sede del municipio amaronese ha salutato il primo cittadino, gli amministratori e i dipendenti. Il sacerdote ha dimostrato di essere già in piena sintonia con il cicovico governo. Oggi insieme iniziano una nuova fase collaborativa che si annuncia ricca di ottimi risultati. Le parole pronunciate da entrambe le parti. Nel corso dell'incontro che Ruggero ha definito cordiale e costruttivo sono stati affrontati diversi temi. Tra un discorso e l'altro l'attenzione è caduta sull'imminente festa in onore della patrona Santa Barbara in programma il 31 luglio ed il 1 agosto. Una festa anomala quest'anno che dovrà fare i conti con l'emergenza sanitaria e con le severe disposizioni anti-contagio. Il sindaco ha accolto l'occasione per tranquillizzare tutti i fedeli amaronesi assicurando che la festa alla fine si farà. Sono pronto, sottolineato, a rilasciare le dovute autorizzazioni sempre nel rispetto delle normative vigenti. Morale delle favole, parrocchia e comune hanno gettato le basi per una sana collaborazione istituzionale e vanno già a braccetto. Per Teregionio, Anna Maria Colabraro. Riviviamo Montepaone, prosecuzione del progetto Il Borgo in Arte. Anche se la situazione di incertezza causata dall'emergenza sanitaria non ci consente di programmare le iniziative che ormai arricchiscono l'estate montepaonese, l'associazione culturale Riviviamo Montepaone non ha fatto venire meno la sua attività di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del territorio con la prosecuzione del progetto Il Borgo in Arte. Così ci scrive Anna Migliano, presidente dell'associazione. L'idea di colorare e animare con interventi artistici di vario genere i muri del paese parte dalla necessità di valorizzare le enormi ma inespresse potenzialità di un luogo da troppo tempo emarginato dai percorsi storici, artistici e culturali e di conseguenza dai flussi turistici che interessano la nostra regione e in particolare il nostro comprensorio. Valorizzare il centro storico e promuovere il patrimonio culturale del territorio attraverso il progetto Il Borgo in Arte significa non solo raccontare e veicolare con il linguaggio dell'arte la sua storia e l'identità ma anche riappropriarsi delle proprie radici. L'obiettivo principale che si persegue è la realizzazione nel corso delle varie edizioni di un vero e proprio itinerario turistico a cui aggiungere il patrimonio tangibile esistente, le chiese, i portali, i palazzi, il museo degli antichi mestieri e i percorsi naturalistici. I murales hanno ospitato nel corso degli anni diversi artisti provenienti da varie parti. Quello che si vuole valorizzare con le nuove opere è la società rurale dei nostri nonni fatta di un bagaglio culturale che si vorrebbe preservare dall'oblio. Non si intende celebrare a prioristicamente e in maniera puramente sentimentale un periodo della nostra storia seppur difficile dal punto di vista economico e sociale ma al contrario riportarne alla luce gli elementi positivi come la dimensione collettiva della vita, i legami tra generazioni, la laboriosità e l'operosità della nostra gente, l'identità del territorio. Ricordiamo la prima grande opera dal titolo C'era una volta realizzata sulla facciata di un'abitazione collocata sulla via Roma, il corso di Montepaone, per arrivare ad oggi con il secondo murale di grandi dimensioni a pochi metri di distanza dal primo, realizzato a quattro mani da Leonardo Cannistra e Beniamino Cosentino, stessi autori del primo che hanno voluto sfidare le opere di grandi dimensioni proprio a Montepaone. La vendemmia è il tema dell'ultimo lavoro in un momento molto significativo della società contadina monteponese di cui non poteva mancare il ricordo. Il progetto Borgo in Arte si contamina con il progetto Abita Montepaone e si realizza anche grazie al contributo dei proprietari delle case messe gratuitamente a disposizione per ospitare gli artisti che di anno in anno prendono parte alla realizzazione dei murales. Le case vengono occupate solo per la settimana di giugno in cui si creano i dipinti per poi rientrare nella sezione del progetto Abito Breve e quindi restare a disposizione dei turisti che intendono fare esperienze di un soggiorno estivo nel centro storico di Montepaone. Le opere stanno riscuotendo tanto successo da parte del pubblico, soprattutto attraverso i social. Molte le persone che passando dalla via Roma si fermano a scattare foto e tante le testate giornalistiche del web che hanno dedicato articoli moltiplicando la visibilità dell'opera. Ma quello che più ci gratifica sono le visite delle scolaresche, purtroppo bruscamente interrotte per l'emergenza Covid-19, ma che speriamo possano riprendere presto per accogliere con gioia e ospitalità i nostri visitatori. Perciò le ioni hanno variato la brava. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!